Dobbiamo avere continuità in quello che facciamo, dobbiamo fare le nostre cose, poi i tifosi sicuramente sono una componente importante, quello è un campo molto caldo, ci hanno vinto solo tre squadre ma una di queste tre squadre siamo stati noi, quindi si tratta solo di giocare una partita di pallacanesso ben giocata e riportare almeno una vittoria da Rosetta. Per me può fare anche zero, può giocare anche zero minuti e basta che si vinca, quindi non è che mi interessa o me, mi interessa la squadra, è chiaro che Mike è un giocatore per questa squadra importante, lo è sempre stato, ci possono essere anche delle partite nelle quali si va un po' più in sofferenza, non ci sono state particolari situazioni di gioco, non è che lui è stato sottoposto a qualcosa di particolare rispetto ad altre partite. Claudio Ondoia che oggi festeggia il suo 32esimo compleanno vorrebbe farsi e fare un bel regalo ai tifosi, ma è consapevole che i bianconeri si troveranno davanti a battaglie toste, su un campo difficile. Sicuramente sarà difficile replicare la partita di due giorni fa perché abbiamo fatto una partita veramente tosta, difficile, però non mi interessa se la replichiamo o no, mi interessa solo la vittoria, se vinciamo va benissimo anche se non la replichiamo. Non abbiamo fatto nulla, è poco ma sicuro perché l'abbiamo visto anche nella serie precedente, eravamo uno a uno allo stesso punto, per cui sappiamo quanto è stato difficile vincere due partite lì, sarà altrettanto difficile in questa, anzi secondo me ancora più difficile, però siamo qui per questo, ci pagano per queste cose qui.